Bene, mi distendo, supino, con le braccia lungo i fianchi, i palmi delle mani rivolti verso l'alto, la spina dorsale, ben allineata, prendo come riferimento il mento, con lo sterno, con il pube, socchiudo gli occhi e comincio a lasciarmi andare, comincio ad abbandonare il peso del corpo, ogni volta che espiro mi libero di parte del peso, come fossero tanti sacchi di zavorra che posso lasciar cadere. Allora inizio a sentire le gambe più leggere, le natiche più leggere, i fianchi più leggeri, le spalle, le braccia, le avambraccia, le mani ed il capo. Tutto il corpo, un respiro dopo l'altro, sta abbandonando parte del proprio peso che scende a terra, delicatamente. immagino di essere sul fondo di un lago, appoggiato dolcemente sul lago, appoggiato l'alto, appoggiato dolcemente sulla sabbia, sopra di me tutta l'acqua del lago, una colonna imponente d'acqua che schiaccia il mio corpo, la terra. e come tutti noi sappiamo, sotto alla superficie dell'acqua i rumori si ottundono, come se fossi dentro ad un barattolo. sento la carezza dell'acqua sul mio corpo e i piccoli pesci che mi sfiorano nuotando intorno a me. osservo fuori uscire dalla mia bocca, dal mio naso, delle piccole bolle durante la mia respirazione. e mi diverto a seguire queste bolle che risalgono la superficie dell'acqua fino a fuori uscire e a svanire a contatto con l'aria. mi sento completamente avvolto da questo stato di pace e di tranquillità che l'acqua che l'acqua sopra di me mi consegna e adesso porto l'attenzione ai miei pensieri osservo i miei pensieri che si susseguono in un flusso continuo e cerco di acciuffare e cerco di acciuffare quello fra gli altri che mi sembra più molesto quel pensiero che mi tormenta in questo momento in questo istante e una volta che l'ho acciuffato lo inserisco dentro una di queste bolle che fuoriescono dal mio naso o dalla mia bocca e lo lascio andare via fluttuare verso la superficie del lago mi diverto ad osservare questo pensiero che si dibatte dentro la bolla mentre la bolla fluttuando delicatamente lo porta in superficie e quando tocca il pelo dell'acqua questo pensiero svanisce insieme alla bolla ritorno al flusso dei miei pensieri ne cerco un altro di cui mi voglio liberare lo inserisco dentro una bolla e lo lascio libero di fluttuare fino alla superficie dove svanirà in contatto con l'aria faccio questo con tutti i pensieri fastidiosi che mi stanno arrovellando la mente la mente la mente Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed inserisco anche questo pensiero dentro una di queste bolle e lo libero, lo lascio tornare in superficie e svanire a contatto con l'aria. E di nuovo cerco un pensiero piacevole che mi attraversa in questo istante, in questo preciso momento. Ed inserendolo in una bolla, lo lascio svanire a poco a poco. Faccio così con tutti i pensieri piacevoli, mettendoli nelle bolle e facendoli flottuare fino alla superficie dove svaniranno in contatto con l'aria. Faccio così con l'aria. processo, mi concedo qualche istante, pochi secondi, per stare con la mia esperienza, in cui mi sono liberato, ho fatto una grande pulizia mentale. sia delle cose che percepisco e interpreto come negative, sia delle cose che percepisco ed interpreto come positive. sto in questo vuoto, in questo spazio creativo, fertile, per qualche istante. e a questo punto posso lasciare che il mio corpo, un respiro dopo l'altro, lo ritorni in superficie, fluttuando anch'esso come una bolla, comincia piano piano a riemergere e quando tocca il pelo dell'acqua, mi sentirò nuovamente sveglio, nuovamente pronto per affrontare la mia giornata con rinnovato vigore. posso iniziare a muovere timidamente l'estremità, piano piano, risvegliando in questo modo tutto il corpo. a questo punto è un po' di questo punto, è un po' di questo punto.